Ne parlavamo insieme dello sguardo sul futuro legato anche al suo ruolo oggi da Presidente del Touring Club italiano, associazione privata in Italia con circa 260.000 soci che intende promuovere e veramente avere cura dell'Italia come bene comune. Certo si guarda al domani con più preoccupazione. Ma sì, un paese dove si nasce poco, un paese dove non ci sono prospettive per i giovani, un paese dove anche quelli che vogliono venire hanno certo tipo di difficoltà, è un paese senza futuro.